La Leon Cupra R è il modello stradale più estremo, esclusivo e potente mai creato da Seat. Basata sulla Cupra normale, è una vettura perfetta per l'uso quotidiano. È tuttavia un po' più estrema. Te ne accorgi quando la guidi. L'auto ha una risposta più rapida, un assetto più sportivo e finiture più esclusive. Ecco perché abbiamo prodotto questo modello in edizione limitata, in sole 799 unità. L'auto è stata realizzata dallo stesso team che progetta le nostre auto da corsa, ossia da persone in grado di tradurre la nostra esperienza in pista nelle prestazioni aerodinamiche e nei dettagli che potete apprezzare qui. Abbiamo preparato un itinerario speciale che ti consentirà di vivere al massimo questa esperienza di guida e naturalmente l'intero team Seat è a tua disposizione per rispondere a eventuali dubbi e domande. Di nuovo ti diamo il nostro più caloroso benvenuto e ti auguriamo buon divertimento a bordo di quest'auto speciale. La Leon Cupra R determina nuovi standard di esclusività, raffinatezza e carattere distintivo per la Seat. Questa edizione limitata monta un propulsore da 310 cavalli che abbinato al cambio manuale vanta un comportamento estremamente sportivo ed emozionante, in particolare ad alti regimi. Il nuovo modello presenta un supporto del motore del cambio più rigido, oltre a un nuovo sistema di scarico, e monta di serie il Performance Pack con impianto frenante Brembo, per una frenata ancora più sicura ed efficiente. Le carreggiate anteriore e posteriore sono più larghe e i nuovi montanti delle sospensioni hanno permesso di modificare il camberaggio delle ruote di 2 gradi, incrementando l'aderenza e la velocità in curva. La Seat Leon Cupra R monta un software sviluppato ad hoc per gli ammortizzatori a controllo elettronico, la cosiddetta regolazione adattiva dell'assetto, DCC o Adaptive Chassis Control, e differenziale autobloccante, anch'esso a controllo elettronico. E' inoltre disponibile una versione con cambio DSG a doppia frizione e 300 cavalli di potenza. Le novità sulla carrozzeria includono specchietti laterali personalizzati, possenti prese d'aria ed esclusivi cerchi in lega da 19 pollici. Il logo è rifinito in color rame e un colore matte opaco della carrozzeria è disponibile su richiesta. I dettagli del pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio incrementano la deportanza della vettura di oltre il 12%. All'interno, gli avvolgenti sedili sportivi in alcantara sono rifiniti con cuciture in color rame, che vengono riprese anche sul volante e la leva del cambio. I pannelli delle porte hanno finiture che richiamano la fibra di carbonio e una targhetta con il numero di serie nella console centrale ricorda che siamo su un'esclusiva vettura edizione limitata. La Leon Cupra R regala migliori prestazioni, maggiore sportività è una sensazione unica al volante. Preparatevi a guidarla!